che si chiama acervo di formica rufa. Guarda che questo qua sta portando un bruco, un bruco. Questi qua, vedi che stanno facendo proprio tutta la collinetta. E se fai così, facci sentire l'odore dell'acido formico? No. Senti, guarda, basta fare così. Guarda come si arrabbia, no? Guarda, senti? C'è una formica sulla mano. C'è una formica sulla mano. Questa sta mordendo, vedi? Hai visto? Ti piace questa? Hai il più grande formicaio che hai visto? Guarda, è alto come te, vieni qua, fammi vedere se sei più alto di lui o se siete alto uguale. Vieni qua, vieni qua, vieni fino qua, non è per favore. Non succede niente, non succede niente, non accormi qui. Vieni fino qua e continua a muovere i piedi, vieni fino qua e continua a muovere i piedi, mettiti vicino e guardiamo se sei più alto. Sei quasi alto come... No, sono loro quasi come me. Sì, mi sa. Solo sono i milioni.